Oh mio Dio, è in arresto cardiaco. Ho bisogno di un cardiologo, presto. Cosa sta succedendo qui? Il suo cuore si è appena fermato. Dobbiamo operarla immediatamente. Ok, vengo subito. Dobbiamo andare in ospedale il prima possibile. Dammi il defibrillatore. Veloce, muore. Ok, ecco la seconda scossa. Ora deve funzionare. Ehi, cosa stai facendo con mia moglie? Ancora una volta, ti prego. Ti prego, svegliati, mamma. Ti amiamo. Devi dire addio a tua moglie. L'hai visto? No, cosa intendi? Marie, si è svegliata per un minuto. Mi dispiace davvero. Ma penso che tu lo stia solo immaginando. No, l'ho visto. Ne sono sicuro. Ti sbagli. No, non mi sbaglio. Si sbagliano. Per favore, esci dalla sala operatoria. Non voglio chiamare la sicurezza. Rimango qui. Finché mia moglie non si sveglia. Non renderla peggiore di quello che è. Vai e inizia a soffrire. Cosa succede alla mamma adesso? Non lo so, Lisa. Spero che i medici facciano qualcosa. Ma starà meglio, vero? Penso di sì. Ha bisogno di stare di nuovo meglio. Lo so, Lisa. Salve, signor Peters. Che aspetto ha, dottore? Abbiamo provato davvero di tutto. Cosa intendi con questo? Tua moglie è in un posto migliore adesso. No, non può essere vero. È la verità. Devono accettarlo. Oh mio Dio. È successo davvero. Mi dispiace moltissimo per te. Cosa faremo adesso, papà? Dobbiamo salutare Marie. E lì seppelliremo. Non abbiamo nient'altro da fare. Non c'è niente che possiamo fare? È davvero troppo tardi? Sì, lo è. Tua madre non è più con noi. Mi dispiace così tanto. E adesso? Per favore, vestitevi e preparatevi. Seppelliremo Marie oggi. Hai finito, Lisa? Sì, ma non lo capisco. Cosa intendi dire? Perché la vita è così ingiusta nei miei confronti? Innanzitutto, l'aereo si schianta. Ora quello con mamma. Perché mio padre? Non so cosa dire. Mi dispiace davvero per te, Lisa. Andiamo a trovare tuo fratello. Dobbiamo partire presto. Possiamo andare, Samuel? Sì, sono pronto. Hai preparato il testo? Sì, ho scritto alcune frasi. Ok, è ora. Salutiamo tua madre. Dobbiamo essere forti adesso, ragazzi. Vive nei nostri cuori. Dov'è esattamente il funerale? Nel cimitero, dove c'è anche tuo nonno. Marie non è completamente sola lì. Ci siamo riuniti oggi per salutarci. Marie Peters era un'amata moglie e madre. Adesso è in paradiso. Hai qualche ultima parola? Sì, vorrei iniziare. Cara Marie, mi dispiace moltissimo. Mi dispiace di non essere stato lì per te. Mi dispiace che tu sia rimasta sola nei tuoi ultimi momenti. Mi dispiace di non poter più stare con te. Ti amerò per sempre. Non importa dove ti trovi. Ci rivedremo prima o poi. Te lo prometto. È stato davvero bello. Come vanno le cose con voi, ragazzi? C'è qualcos'altro che vorresti dire? Sì, abbiamo preparato un testo insieme. Cara mamma, ti amiamo più di ogni altra cosa. Ci mancherai ogni giorno. Spero di rivederti qualche volta. I vostri Elisa e Samuel. Parole molto belle. È tempo per noi di dire addio a Marie. E lasciali riposare. Come stai, Elisa? Non va bene. Non riesco a dormire da giorni. So che non è facile. Una domanda a papà. Abbiamo dimenticato qualcosa sull'isola allora? Cosa intendi dire? Ho la sensazione che abbiamo dimenticato qualcosa. Qualcosa di importante. Mh, fammi pensare per un minuto. Ci sentiamo tutti bene lì dentro? Non abbiamo un posto a sedere sufficiente. Qualcuno deve rimanere qui. Nessun problema ragazzi, lo farò. E' sicuro, signor Kunze? Sì, è mio dovere. Almeno posso rimediare. Sei davvero un uomo d'onore, signor Kunze. Torneremo il prima possibile. Lasciamo i bambini a casa per un minuto. Nessun problema, mi fido di te. Gli adulti siedono davanti, i bambini dietro. A presto ragazzi. Dove alloggiano? Ho quasi finito l'acqua. Sono già passati giorni. Non voglio morire da sola qui. O mio Dio. Che succede? So cosa abbiamo dimenticato. Cosa allora? Signor Kunze. Oh cavolo, hai ragione. Volevamo andare a prenderlo. Pensi che stia bene? Non ne ho idea. Ma dobbiamo raggiungerlo il prima possibile. Ciao, sono Anghela. Anghela, sono io, Martin. Ho bisogno del tuo aiuto. Che succede? Devo usare l'elicottero. L'elicottero non è un giocattolo. È destinato esclusivamente alle emergenze. È un'emergenza. Abbiamo dimenticato qualcosa sull'isola. Cosa allora? Non può essere così importante. Abbiamo dimenticato il signor Kunze. Peccato, hai ragione. Sì, dobbiamo andare a prenderlo subito. Ok, vengo subito da te. Ok, mi sto preparando. Lisa, so che è un brutto momento. Ma devi venire sull'isola con me. Non mi sento proprio bene in questo momento, papà. Ma senza di te, potremmo non trovare il signor Kunze. Sei sull'isola da molto tempo. Li conosci molto meglio di noi. Ok, vengo con te. Ma vogliamo subito. Ciao Martin, sei pronto? Sì, possiamo andare subito. Vuoi che la ragazza venga con me? Sì, Lisa conosce l'isola come il palmo della sua mano. Ok, se lo dici tu. Entriamo. Signor Kunze, ci sente? Non credo che sia qui. Mi nasconderei al suo posto. Nella grotta, per esempio. Ok, e dov'è? Dobbiamo muoverci in quella direzione. Ti riferisci a questa grotta? Sì, esattamente. Non lo vedo da nessuna parte qui. E cos'è quello lì? Devo dare un'occhiata più da vicino. O no, sembra sangue. Dobbiamo trovarlo velocemente. Dove mi trovo? Salve, qualcuno può sentirmi? Sono io, Marie. Martino? Lisa? C'è qualcuno qui? Perché indosso un vestito così nero? Me ne vado a casa. Signor Kunze, eccoti. Quanto tempo hai aspettato qui? Angela, Lisa, sei tu? Deve essere un sogno. Siamo davvero qui. Ti portiamo a casa adesso. Scusa se ti abbiamo dimenticato. Va bene, ma ora vorrei davvero andare a casa. Grazie per averlo ritirato. Mi piacerebbe. Cosa stai facendo adesso? Vado a casa a farmi una doccia. Poi mangio più cheeseburger che posso. Dovremo entrare anche noi, Lisa. Ok, entriamo. Ciao cara. Marie, cosa stai facendo qui? Cosa intendi con questo? Questo non è possibile. Devi essere un fantasma? Comunque, perché ero al cimitero? Che diavolo sta succedendo qui? Smettila di parlare così. Non può essere, Marie. Hai avuto un arresto cardiaco. Credo di essere stata colpita da un fulmine. Oh mio Dio Marie, ci sei mancata così tanto. Ti amo, mamma. Ti amo anch'io. Quante persone c'erano al funerale di Marie? A, 3. B, 4 C, 5. Scrivi un commento. Grazie a tutti. Grazie a tutti